Qua abbiamo un problema. Ecco, questi Ripto hanno costruito un negozio nei nostri alberi. Usano le loro api per attaccarci. Se li spazzassi via, te ne sarei molto obbligato. Quando hai finito, vai a trovare il mio secondo cugino, Warren Bob. Fantastico! E ora è tempo di andare a prendere a calci Ripto. Ehi, quelle api mica scherzano. Dovrai ingoiare quelle rocce e sputarle come semi di cocomero. Pa, pa, pa! Vuoi provare a stermificare queste api di nuovo? Grazie! 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 Grazie!